Le 5 stelle che restano scettici sul calendario d'aula previsto per la nuova legge elettorale. Sentite che cosa ci ha detto il deputato Federico Dincà. Noi valutiamo positivamente poter portare in aula per il 27 la legge elettorale. Riteniamo difficilissimo il calendario in quanto vi sono 7 decreti legge con scadenza fino al 28 febbraio. Questa è un'altra violenza da parte del governo nei confronti dell'aula parlamentare. Grazie.